ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, vi do il benvenuto più al canale siamo su famigliatori 22 nella vecchia campagna agricola allora stanno avanti un po con le lavorazioni qua sembra un po ubriaco l'operaio ma vabbè lasciamolo fare molto bene ok poi che altro qua sto andando avanti con le semine però purtroppo io non so ogni volta che aggiornano sto gioco succede il patatraco ogni volta non so l'ultima volta non partiva adesso hanno aggiornato una nuova patch non so mi spariscono le cose naturalmente come potete vedere l'asseminatrice è sì la stessa ma non è quella che avevo prima perché purtroppo il gioco non la vede più è installata c'è si vede e tutto ma non non appare più nelle mod nelle impostazioni nel negozio non c'è più non lo so se qualcuno ha altri problemi come sempre prima di continuare con il gameplay io vi ricordo di iscrivervi al canale pollicioni su di milioni like andate qui mi piace commentate come sempre fatemi sapere la vostra una faccina un segno che siete passati un ciao un saluto va benissimo e vi ringrazio giù in precedente ho preso due tre green play fa le pecore le capre uguale pecore che fanno latte ok come situazione siamo anche messi bene a parte le galline nient'altro sto trebbiando e seminando nello stesso momento perché ci sono dei terreni che sono pronti e altri no ad esempio il 40 e il 43 devono essere in fase di crescita sono in fase di crescita il 46 lo sto seminando il 45 lo sto raccogliendo e poi devo ricordarmi che ho anche il 22 il 23 che non so minimamente cosa ci sia sopra uno sembra mais e l'altro semi di soia ok abbiamo un paio di terreni in produzione sì molto bene avevamo anche gli alberelli che non ho più controllato ma non credo che in questo momento sia un problema per cui io per il momento mi finisco questi lavoretti e poi vediamo che fare oggi perché per il momento fermo ok questo mi conviene tirarlo via da qui glielo metto un po più vicino così non deve far troppa strada per cui finisco queste lavorazioni e poi ci becchiamo appena qua è finito tutto perché questo terreno a parte il rullo non deve fare altro che essere sistemato vabbè per quanto riguarda le semine sto seminando orzo il perché forse perché mi serve da qualche parte eccolo qua spiegato il motivo del dell'orzo anche qua serve orzo abbiamo le varie serre che stanno anche abbastanzina bisognerà prendere un po di palle di cose varie vabbè restiamo un attimo a disposizione perché ero a zero prima con i soldi ho venduto un spargi concimi che avevo preso per sbaglio erroneamente nel gameplay precedente bene finisco qua e vediamo di andare avanti allora finita la raccolta sono usciti 150 mila litri all'incirca di sorgo che è meglio che porti alle galline perché erano un po a secco ultimamente mi chiedo se c'erano anche le proteine purtroppo per le proteine eccole qua siamo pieni però non basteranno mai e voglio vediamo questo no questo vado a scaricarlo poi mi prendo quelle quattro proteine almeno se le tolgo continuerà a produrmele trovare il il punto per le proteine dovrebbe essere queste sì allora vado vado avanti credo al mese prossimo ma il prossimo punto e comunque arriverà l'erbaccia sicuramente se non l'ho tolta mi ricordo più se l'ho tolta in sta mappa anche in questa vedremo sì l'ho tolta vabbè ok allora devo solo andare avanti allora mi segnalate di pecora in esaurimento e già che ci sono aspetta vado provare queste proteine sì me le prende vabbè ovvio che un po è un po ok c'è il latte di pecora da sistemare eccolo qua e dubito di avere un pallet no no andiamo con questo così me li tolgo latte di pecora eccolo qua ottobre 2599 sarebbe anche il periodo giusto per venderlo sto latte intanto vedo se posso recuperarlo così che è già qualcosa e poi sì ok me lo fa mi fa recuperare sti litri sti 6.000 litri di latte vediamo un attimo se c'è qualche produzione allora ho controllato non c'è nessuna produzione stabilimento latte ario allora proviamo andare lì a vedere se magari contrassegna vedo se vabbè tanto lo vado a vendere poi già che sono lì vedo se posso a ricomprare la produzione a sto punto allora sono arrivato fabbrica del pallet carton mi segna ma secondo me non è questa esatto sbagliato fabbrica è più è di là ok eccola qua fammi vedere la campina però da quello che posso vedere non si acquista vabbè per cui vado direttamente in vendita eccolo qua ok 15.000 16.000 euro molto bene allora mi ero fermato perché uno le pecore avevano stolate da gestire due devo iniziare le trebbiature per cui l'unico terreno che mi necessita di una lama diversa è il 22 allora vado con la piccola mi conviene se il 43 si faccio il 43 intanto perché la lama piccola perché mi costa meno sicuramente di prendere una lama enorme per questa vabbè ma qua c'è c'è un problema il 43 è a girasoli per cui male e il 23 allora e allora niente forse devo andare a prendere con questa la lama grande si forse è meglio avere la lama grande per questa anche se vabbè la noleggio sì allora eccomi qua gli creo il percorso intanto per andare funziona soltanto che devo raggiungere il primo punto perché sennò sbaglio c'è dell'erbaccia forse l'ho tolta dopo ok chiudi condotto perché sennò sono nella cacca esatto riesco a capire che problema primo giro è un po critico allora vabbè con difficoltà il primo giro lo sto facendo parte che allora questo li lo piazzo qua e questo bloccato ok questa invece vado a terra giù il 23 giusto se allora questo lo lascio qua anche se è quello piccolino ma per quello che dovrà uscirne va anche troppo bene allora il nostro amico lì vabbè funzia ormai deve andare a scaricare ok qua ha scaricato ha finito avrà fatto un due scarichi forse proviamo a recuperare anche questo prodotto qua e non so si fa un po schifo ok 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 devo allora devo pensarci sì prima di trebbiare tutto devo sistemare le zone ok ok giusto 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 costruzione presentazione smussa massima estensione dovrebbe se non dovrei da far danni così non vedo molta attività qua però vediamo se magari adesso va un po' niente lo zio ha deciso che non vuole scaricare qua ok risolto il problema ma devo spostarglielo però non so se veniva da qua o da là però dovrebbe essere no ancora problemi vedete che certi terreni non supportano molto bene determinate culture qua ad esempio vabbè non dico niente magari mi sbaglio anch'io allora prossimo terreno dovrebbe essere qua da qualche parte allora avevo detto che volevo sistemare un attimo qui la fabbrica la farm perché uno ha il silo che non è che pigli molto due toglierei due tre punti perché tanto non ne faccio niente vediamo un attimo quanta roba c'è nel silo ci sono un po' di girassoli però io punterei a mettere giù un silo nuovo e poi a togliere ad esempio se io voglio demolire questo ok poi anche questo ok e poi il silo prossimamente allora vediamo un attimo più o meno se io voglio questa zona come silo se io volessi metterci questo costa 50 mila 20 milioni a multi fruit devo tenere d'occhio però è allora ho messo giù il silo nuovo però la prova dell'ultima prova sarebbe questa se scarica si le proteine animali molto bene allora voglio capire ma questo posso venderlo allora a sto punto non lo so vediamo se le due cose sono collegate così svuoto si non ci sta male magari qua metterò qualcos'altro allora scaricato l'orzo se non lo trovo più vado avanti se no maledizione che disastri se no devo inventarmi qualcos'altro per eliminarlo e sono collegati questo è un bel problema provo ad eliminarlo mi vende un po' di prodotti l'avena ad esempio perché ho molti prodotti dentro e non so come fare adesso perché tutti questi carrelli qua non è che posso comprarli allora sto tentando di risolvere però non lo so se può funzionare allora come potete vedere ho un convoglio dietro di me e adesso vi farò vedere eccolo qua ho noleggiato 6-7 cassoni perché è l'unico sistema che ho per risolvere il problema perché se no come altro posso fare intanto stocco qua e poi provo a vendere tanto se sono collegati la situazione dovrebbe risolversi in teoria nel frattempo vabbè qua è tutto bloccato perché purtroppo va tutto in panico come sempre ogni volta che qualcuno mette mano e mette una patch i disastri sono sempre questi finisco qua così mi prendo un po' avanti ok allora adesso vado a fare l'altro campo di mais vediamo come raggiungerlo se ci passo più che altro beh posso entrare anche da qua perché tanto non cambia molto allora parti pure qua siamo a posto manca vieni a scaricare ma non ci sta nulla cerca di finire sembra che non ci sia più niente sì vendi che cazzo ok aveva anche degli ampliamenti vabbè perfetto vabbè posto allora allora adesso basterà fare un po' di retromarcia a quanto siamo con la capacità qua 20 milioni boh a posto adesso ah beh ma tutti i carelli qua sono a noleggio per cui non c'è pericolo di sbagliare allora mi scarico il restante di questi e poi vado a scaricarmi le trebbie perché sennò sono messo male comunque io credo che tra un po' mi fermo qui come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale pollicioni su dei milioni like che andate qui mi piace commentate condividete mi raccomando commentate come sempre lasciate giù un mi piace un commento un saluto una faccina qualsiasi cosa possa essere d'aiuto va benissimo e qua siamo a posto ok qua siamo a posto questo me lo tolgo da qua perché sennò è un problema io devo farlo partire dal primo punto però perfetto allora qua ci siamo qua ci siamo qua la ripartiamo bene io finisco queste due trebiature poi presumo mi lavorerò quel campo lì noi ci vediamo al prossimo gameplay ciao a tutti grazie alla prossima ciao ciao ciao